Cambiamo decisamente argomento, parliamo della legge regionale 9 perché la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso presentato appunto al Governo. Il servizio è di Maurizio Ciotola. Il fatto che la Corte Costituzionale abbia respinto il ricorso del Governo contro la legge regionale 9 del 2023 che conteneva alcune norme di riordino delle province appare come una vittoria autonomista su quella che è la decisione adottata dalla Regione per tenere in vita 6 province e 2 città metropolitane su cui i dubbi di opportunità amministrativa e gestione del territorio sono stati espressi in diverse sedi. Questa bocciatura della consulta consente alla nostra Regione di andare avanti sullo schema definito già nel 2021 con la legge 7, sempre approvata dal centrodestra che trovò in quell'occasione lo sbarramento del Governo Draghi e che nei fatti risumava lo schema delle otto province mutando territori e definizioni per le due maggiori aree di interesse con l'introduzione delle città metropolitane, diversamente da ciò che era previsto con il primo riordino del 2016 per cui fu definita solo la città metropolitana di Cagliari. Adesso vi sarà la fase elettiva per cui dovranno essere costituiti gli organi di rappresentanza per gli enti così ricostituiti e per cui la consulta ha dato il via libera. L'unico auspicio è che le funzioni amministrative delegate a tali enti territoriali non costituiscano vuoti e inutili doppioni rispetto alle funzioni degli altri enti locali già in attività e soprattutto senza entrare con loro in concorrenza e conflitto immettendo ulteriori dubbi sulle competenze specifiche di ognuno di essi.